In questo video vedremo come inserire cartografia in formato raster nell'ambiente di lavoro QGIS. A tal fine ci soffermeremo su due tipologie di file cartografici raster, i file raster georeferenziati e i file raster non georeferenziati. Nei file raster georeferenziati i pixel componenti l'immagine sono dotati di ben precise coordinate georeferenziate. Questi file possono essere ottenuti da fonti ufficiali come i geoportali e una volta inseriti in un progetto QGIS risulteranno correttamente collocati nell'area di lavoro georeferenziata. I file raster non georeferenziati si comportano invece come semplici fotografie o fotocopie. Pur contenendo rappresentazioni cartografiche, essi sono del tutto privi di coordinate che ne consentano la collocazione geografica rispetto alla cartografia terrestre. Una volta inserite in ambiente QGIS, queste carte compariranno in aree arbitrarie dello spazio di lavoro, non essendo in grado di sovrapporsi automaticamente alle sezioni georeferenziate del database cartografico in uso. Cartografie storiche o anche contemporanee ma non molto recenti possono presentarsi in forma non georeferenziata. Per utilizzarle è quindi necessario capire prima di tutto come inserirle correttamente nell'ambiente di lavoro. Apriamo ora in QGIS un file di esempio contenente la cartografia dell'area metropolitana della città di Milano, in particolare dell'area di città studi presso il Campus Leonardo del Politecnico di Milano. Allo stesso tempo mostriamo un file raster contenente una porzione della medesima area urbana che vorremmo inserire e sovrapporre al nostro progetto QGIS. Il file raster non è georeferenziato e come ci aspettavamo inserendolo nell'ambiente di lavoro non verrà correttamente sovrapposto all'area di pertinenza. Accediamo quindi al pannello raster e selezioniamo il comando georeferencer che ci permette di attribuire manualmente informazioni utili per georeferenziare l'immagine nel nostro spazio di lavoro. Nel nuovo pannello inseriamo il file raster mediante il comando Open Raster. Usiamo ora il comando Add Point e selezioniamo alcuni punti ben riconoscibili dell'area che appare nell'immagine, cliccando su BSI con il puntatore del mouse. Ogni volta che clicchiamo su un punto si apre una nuova finestra in cui è possibile inserire le coordinate geografiche di quello specifico punto. Calcolare gli esatti valori numerici delle coordinate geografiche è spesso complesso, ma in alternativa, se abbiamo già inserito nello spazio di lavoro QGIS degli elementi georeferenziati in cui è possibile ritrovare il punto appena scelto, possiamo selezionare la voce From Map Canvas. Torniamo così momentaneamente nello spazio di lavoro QGIS, dove possiamo cercare il punto corrispondente e cliccare su di esso. Le coordinate di questo punto georeferenziato sono ora attribuite anche al punto inizialmente marcato sul file raster. Clicchiamo OK per proseguire. Nello spazio sottostante vengono mostrate informazioni riguardanti il punto appena georeferenziato. Per inserire correttamente l'immagine raster è consigliato georeferenziare almeno 5 punti, fermarestando la possibilità di considerare un più alto numero di punti. Procediamo quindi ad aggiungere altri quattro punti, seguendo le medesime istruzioni. È importante selezionare con cura tali punti di riferimento, in quanto dalla loro appropriata e corretta identificazione dipende l'intero processo di georeferenziazione. Al di là del procedimento operativo qui illustrato, è sempre necessario riferirsi alla letteratura disciplinare specifica, il cui approfondimento esula dalle finalità del nostro percorso. Procediamo quindi attivando il comando Transformation Settings. Accediamo così a un nuovo menu in cui finalizzare il processo di importazione. Esaminiamo i contenuti del pannello. Le prime due opzioni determinano la complessità e in un certo senso la qualità del processo di importazione. In questo caso manteniamo i valori qui riportati. Per assicurarci che il file venga correttamente inserito in QGIS, verifichiamo che la spunta sull'opzione Loading QGIS when done sia attiva. Per concludere, clicchiamo sul riquadro con i tre puntini situato alla destra di Output Raster per selezionare una destinazione di salvataggio del file e per denominarlo. Per importare il file nel progetto occorre infatti salvarlo. In questo caso scegliamo una cartella locale sul computer. Premiamo ora su OK per proseguire e infine attiviamo il comando Start Georeferencing per avviare il processo di importazione. Il file raster comparirà così nello spazio di lavoro, in posizione e correttamente sovrapposto alla cartografia QGIS. Osserviamo anche che l'immagine è stata effettivamente salvata nella cartella da noi prescelta in un formato raster finalmente georeferenziato. Se fosse quindi necessario utilizzare in seguito questa stessa immagine in un nuovo progetto, non occorrerà ripetere il processo di georeferenziazione, ma sarà sufficiente importarla per visualizzarla correttamente nell'area di lavoro. Ricordiamo infine che tutti i file importati nell'ambiente di lavoro QGIS sono in realtà semplicemente collegati. Il file di progetto può essere in sostanza pensato nel suo complesso come un grande sistema di link. Per questo motivo, lavorando a un progetto QGIS, è sempre necessario conservare con cura i file collegati, preferibilmente salvati nella stessa cartella, evitando di cancellarli o anche solo di spostarli.